Grazie, buonasera, sono Giuseppe Di Caprio, come tutti voi già mi conoscete, sono stato per lunghi anni nell'Arma dei Carabinieri ed attualmente, anche se in pensione, sono molto attento nella vita sociale. Mi sono reso conto che negli ultimi anni questo comune è stato abbandonamento a se stesso e quindi è arrivato il momento di dare una svolta al nostro Paese e per questo motivo che ho accettato con fiducia l'invito che mi ha rivolto Clemento di Cerbo alla mia candidatura. Ritengo che insieme a Clemento, con il suo esperimento ed impegno, si possa rendere un corso nuovo per il nostro Paese. Buona serata a tutti. Vota e votateci. E adesso la parola a Giuseppe Grazie. 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 Grazie.